E ormai tutto pronto per Italia-Cile di Coppa Davis. Terminata l'arena del tennis costruita in tempi record sul lungomare, è stato inaugurato questa mattina il villaggio aperto al pubblico che ospiterà gli stand delle istituzioni e degli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ed il presidente del circolo tennis Napoli Luca Serra hanno tagliato il nastro sotto una pioggia ben augurale che si spera non disturbi troppo lo svolgimento della Coppa. Le partite, tempo permettendo, prenderanno il via venerdì mattina e si concluderanno domenica. Saranno il numero 1 Andreas Seppi e il numero 2 del Cile Guillermo Hormazabal a scendere in campo domani alle 11.15, nel singolare che dà il via alla sfida valida per la permanenza del gruppo mondiale, la Serie A di Coppa Davis. A seguire scenderanno in campo Fabio Fognini e Paul Capdeville, numero 1 della squadra cilena. Sabato il doppio vedrà la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Daniele Bracciali opposta al tandem cileno Capdeville-Aguillar. Tantissimi gli abbonamenti venduti, sono ora disponibili i biglietti per le singole giornate che potranno essere acquistati direttamente